Ce lo porteremo dietro il suo ricordo, tutti noi che esattamente come Bruno abbiamo la lucchese del sangue. Polverini, scomparso qualche giorno fa alle soglie dei 90 anni, di passioni autentiche ne aveva anche un'altra, il giornalismo, quello sano, non becero e presuntuoso che abbiamo purtroppo intorno a noi. La sua scomparsa lascia un grande vuoto, anche nel suo Portelisa, una specie di seconda casa, e domenica, prima di Lucchese e Massese, i suoi colleghi lo hanno voluto ricordare insieme alla società, deponendo un mazzo di fiori laddove si sedeva ogni domenica. Bruno Polverini ha unito la sua storia a quella dei colori rossoneri, insieme al compianto Paolo Galli ed Emiliano Pellegrini, aveva raccontato negli anni 70 la prima storia della Lucchese, con un volume ricco di dati statistici, aneddoti e immagini. Ancora prima aveva dato alle stampe lo storico rossonero, quattro pagine dedicato alle vicende calcistiche della sua squadra, ed oggi collaborava ancora al Gattina.